Nel primo short dicevo ora c'è il derby e questo derby deve essere la cosa più importante per un tifoso del Milan in questo momento. Attacchiamoci agli uomini quelli veri, attacchiamoci a quei giocatori che per esperienza, per qualità umane, ma non tanto qualità di campo, qualità umane perché questa squadra non ha niente da imparare da nessuno a livello tecnico, questa squadra in questo momento ha bisogno di quei giocatori, di quegli uomini che riescono a risollevarla mentalmente e caratterialmente, attacchiamoci ad Olivier Giroud, attacchiamoci a Zlatan Ibrahimović, attacchiamoci a quei giocatori che nella scorsa stagione ci hanno portato a vincere lo scudetto, lasciamo da parte un attimino l'astio che c'è con tutto e tifiamo Milan, a dopo!